Sì, perché lui viene, guarda! Ciao, ciao! Ma come sei giocherellone? Ma come sei giocherellone? Ma come sei giocherellone? Eh, lo sai che è scontino? Eh, eh, eh! Hai fatto anche me se stava così? Sì, stava solo così! Eh, che cos'è? Che cos'è? Eh? Anche da ferma! Perché prima si era fermata un attimo là Eh, qualcosa sono riuscito a fare la ferma Vabbè, sì, la prendiamo e le mettiamo la pettorina Ciao! Sei bellissima! Eh, eh! Eh, eh! Ciao! Timothy! Ciao! Ciao! Eh, Violetta! Eh, eh! I bacini! Sì! Ci diamo i bacini! Ci diamo i bacini! Ciao! 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 Coccolone tu! Sì, tanto! Quante coccole! Quanto è bellino lui! Quante coccole! Che pelo! Mamma mia che pelo! È morbidissimo! Sei morbidissimo! Sì! Mmh! Come sei bello! Chiara! Guarda! Le coccoline! Ti facciamo! Non è che la più spaventata! È sempre stata così! Sì! Non si avvicina molto! No! È più socievole con i cani! E se stai dall'altra parte del recinto! Viene allora! Esatto! E lui è cuccolone! È vero! È vero! Sì! 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 Timothy è al guinzaio! Sì! Sì! Che sta camminando! Sta facendo una bella passeggiata con Gia Chiara! Eccolo! Facciamo lei! Così poi io! Facciamo di accappare lei! Timothy! Timothy! Stanno usando per bene! Sì! Timothy! È curioso! E hanno usato ovunque! Sì! 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 Timothy! No! Un po' di terra! Ha ragione! Ciao! Andiamo! Ok, basta!